Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, come sempre, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale e a voi ben conosciuto della mia libreria. Allora, cari signori, quest'oggi parliamo di un grandissimo classico della storia dell'aviazione. Parliamo, parliamo di un aereo che a noi italiani suscita, ahimè, gravi, brutti e dolorosi ricordi. Perché? Allora, la fonte da cui trago le notizie è questo libro, ok? Aerei della seconda guerra mondiale, una vecchia pubblicazione degli anni 70, scritta da Christopher Chant e tradotta per l'edizione italiana da Aldo G. Cimarelli. Ok, ok, ok. Perché questo aereo suscita in noi italiani dolorosissimi ricordi? Perché parliamo di questo aereo. Eccolo qua. Nel Tre Viste, eccolo qui, si vede, eccolo qua. Questo è uno, due, eccolo qui, e tre, eccolo qua. Parliamo dello swordfish, del fairy swordfish, del silurante biplano, dello string bag, che in inglese vuol dire borsa di corda per la spesa praticamente, che nella tragica notte di Taranto ci tirò giù praticamente mezza flotta. Lo string bag aveva, come dire, un conto, probabilmente un conto anche molto pesante da regolare con le corazzate dell'asse, dato che a azzoppare la Bismarck fu proprio uno di questi aerei, pilotato dal tenente Eugene Ismond, che silurò la Bismarck, gli centrò il tomeone con un colpo molto fortunato e riuscì ad azzoppare la potente corazzata tedesca. Allora, lo swordfish era un aereo grosso, lento, ma era una piattaforma di tiro eccezionalmente stabile perché aveva una velocità limitatissima perché procedeva alla velocità massima di 222 km orari a 1500 metri di quota. Insomma, praticamente una vaporella, se vogliamo, detta così com'è. Però questa caratteristica della lentezza, della grande stabilità e anche delle eccezionali qualità di volo, perché proprio la sua lentezza lo rendeva un aereo eccezionale ed era una piattaforma di volo straordinariamente stabile, e questa lentezza lo rendeva anche di difficilissima intercettazione per gli aerei nemici. Ripeto, quando gli swordfish del tenente Eugene Ismond attaccarono il cosiddetto convoglio Kerberus, ovvero sia le navi da battaglia tedesche che passarono da Brest a Kiel forzando il canale della manica, dicevo, quando il tenente Ismond, l'uomo che azzoppò la Bismarck, attaccò il convoglio Kerberus con i suoi swordfish, i Messerschmitt 109 che erano incaricati della sorveglianza aerea della flotta tedesca, per abbatterli dovettero fare assoluti miracoli, cioè i flap estesi, motore al minimo, carrello tirato giù, perché la bassissima velocità di volo rendeva lo swordfish pressoché inintercettabile per i veloci monoplani che volavano ad una velocità, che avevano una velocità di stallo pari alla velocità massima dello swordfish. Ecco, tenete presente questo. Allora, dicevo una cosa, praticamente all'inizio della guerra era già un aereo superato lo swordfish, ma non avevano assolutamente niente di meglio in inglese e quindi lo usarono praticamente fino alla fine della guerra, tant'è che lo swordfish sopravvisse addirittura al suo sostituto, ovvero sia lo albacore, altro anche se aveva un aspetto più moderno, perché insomma, diciamoci la verità, lo swordfish tutto sembra, cioè tutto sembra tranne che un aereo della seconda guerra mondiale, era un aereo decisamente arcaico per i tempi, ok? Praticamente lo swordfish, oltre ad avere eccellenti caratteristiche di volo, aveva una struttura solidissima, che insomma lo rendevano capace di assorbire danni che avrebbero distrutto aerei ben più moderni. Fu un aereo troppo lento sicuramente per la seconda guerra mondiale, ma nonostante la sua mole enorme, perché era anche bello grosso lo swordfish, fu maneggevole, molto costante nel rendimento, e ideale per le piccole portaerei di scorta che entrarono in azione più avanti nel conflitto, e che furono le armi risolutive per la battaglia dell'Atlantico. Cari signori, allora, il prototipo dello swordfish volò per la prima volta nel 1934, e in origine fu indicato con la sigla TSR-2. Fu progettato in maniera da rispondere ai requisiti richiesti dal Ministero dell'Aeronautica per un bombardiere silurante, basato su portaerei, e capace di condurre indifferentemente missioni di avvistamento e di attacco. Le prove ebbero un immediato successo, e ne fu immediatamente ordinata la produzione per il luglio 1936. Allo scoppio dell'ostilità nel 1939, i gruppi dotati di swordfish erano 13, e ne vennero formati altri 13 durante la guerra, l'ultimo dei quali nel giugno 1943. Ogni gruppo comprendeva due squadriglie di 12 aerei ciascuna. Allora, lo swordfish 1, che è praticamente questo che vi ho fatto vedere nel tre viste, eccolo qua, eccolo qui, eccolo qua, questo è lo swordfish 1, ok? Lo swordfish 1, fu costruito fino al 1943, aveva, come dire, abitacolo aperto, ed era un biplano rivestito in tela, fusoliera in tubi in acciaio rivestita in tela. Lo swordfish 2, invece, aveva la copertura inferiore delle ali in lamierino di alluminio. E questo accorgimento, e questo accorgimento permise l'installazione di carichi subalari e soprattutto l'installazione dei razzi da 27 kg, i razzi da 60 libre, che si dimostrarono utilissimi negli attacchi contro il naviglio di superficie e contro i sommergibili, ok? Lo swordfish 3, invece, montava un radar ASV Mark 10 per la ricerca in cielo e in mare. Eccolo qui. Si nota in questa foto che vedete, è questa protuberanza qua. Questo è lo swordfish con il radar montato, il radar ASV montato, per la sorveglianza antisommergibile. La cabina chiusa, lo swordfish, lo ebbe soltanto con l'ultima serie, la Mark IV, che era destinata praticamente solo all'uso in Canada, cioè era destinata alle forze aere canadesi. Allora, gli swordfish prodotti in totale furono 2392. Gli ultimi esemplari furono consegnati nell'agosto del 44. E allora, durante tutto il conflitto, lo swordfish si dimostrò molto, molto, molto efficiente. Allora, come ho già detto prima, la sua bassa velocità lo rendeva una piattaforma aerea ideale per il lancio dei siduri. Il primo attacco sidurante dello swordfish fu condotto nell'aprile del 1940 e le sue azioni contro i convogli e le unità militari tedesche e italiane continuarono sino alla fine della guerra. Allora, operava, diciamo, dopo il 1941, operò essenzialmente dalla tolta delle portaerei appoggio nel mezzo dell'Atlantico, che era uno scacchiere che aerei con base a terra non avrebbero mai potuto raggiungere operativamente. Gli swordfish furono determinanti nello sgominare la minaccia degli u-boot tedeschi nel 1943. Eh, 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 eh. Cioè, rendiamoci conto di che razza di palle avevano i piloti di questo aereo. Ok? Un aereo è ricoperto praticamente di tela a parte l'ala inferiore per pattugliare un teatro operativo infame come l'Atlantico settentrionale a protezione dei convogli. Rendetevi conto di che cosa vuol dire. Allora, questo aereo, come ho già detto prima, lo swordfish aveva un conto in sospeso, probabilmente se l'aveva morte con le corazzate dell'asse. Perché, praticamente, nel novembre, allora, nel maggio del 1940, fu uno swordfish, quello del tenente Eugene Eastmond, ad azzoppare la Bismarck. E nel novembre 1940, gli swordfish della Fleet Air Herme con un'azione da manuale, ci tirarono giù mezza flotta nel porto di Taranto. Allora, ripeto, come ho già detto prima, la testimonianza del valore dello swordfish, eccone un esemplare in volo, eccolo qua, la bontà dello swordfish è testimoniata dal fatto che è sopravvissuto in servizio operativo al suo successore. il ferry albacore, che era un aereo simile come struttura, un motore più potente, cabina chiusa, sempre biplano, ma che fu tolto dal servizio prima dello swordfish, che era oggettivamente, quello che si dice, un aereo eccezionale. Eccolo qua, ferry swordfish, il flagello delle flotte dell'asse. Eccolo qua, lo stringback. Quindi, cari signori, io credo di avervi detto tutto quello che potevo dirvi a proposito dello stringback. Adesso tocca a voi, con i commenti, con le vostre considerazioni, con le vostre aggiunte a questo video. Quindi, cari signori, come sempre, ancora, nuovamente, arrivederci al mio prossimo video, e nuovamente, ciao! Grazie. Grazie. Grazie.